Benvenuti a Esplorare i confini, una serie di puntate prodotte dal Circolo Bianchini di Fano. Si tratta di un viaggio nel passato, nel presente, con uno sguardo rivolto al futuro. Visiteremo virtualmente Pompei, parleremo di medicina oggi nel mondo, parleremo di Medioevo e di Romanticismo, di arte antica e arte contemporanea. È un'esplorazione fatta con i nostri mezzi, ma con tutto l'impegno di chi crede che la passione della ricerca, l'esplorazione della scienza, della cultura, dell'arte sia un qualcosa che arricchisce le nostre vite e soprattutto un qualcosa che deve essere aperto a tutti. Se questo progetto vi piace, vi invito a visitare il nostro sito internet e i canali social e, se credete, a sostenere la nostra attività. A nome di tutto il Circolo, vi auguro una buona visione. Buonasera a tutti. Per questa puntata sul canto quinto del Purgatorio della Divina Commedia di Dante ci troviamo in questa splendida sala che è la Sala dei Globi della Biblioteca Federiciana di Fano. Iniziamo il nostro racconto da una mattina di giugno del 1289, esattamente l'11 giugno. Siamo nella pianura del Casentino e le truppe guelfie di Firenze si sono attestate dalla prima mattina in una linea nella zona vicino a Campaldino, vicino alla città di Bibiano, sotto il castello di Poppi. Di fronte a loro c'è lo schieramento aretino. Gli aretini sono ghibellini e insieme a loro ci sono gli alleati di Romagna e di Marche. Anche dal Moltefentro sono arrivati degli squadroni di cavalleria e di fanteria per sostenere questo scontro che sarà capitale, metterà fine alla lotta tra guelfie e ghibellini in Italia dopo quasi un secolo di lotte feroci. I fiorentini dispongono in prima linea i feditori a cavallo, cioè reparti di cavalleria che sono incaricati del primo assalto oppure devono reggere l'impatto terribile dei nemici. La battaglia, come sempre nel basso Medioevo, si giocherà sicuramente sullo scontro delle cavallerie. Le forze fiorentine, che hanno insieme a loro truppe delle città della Toscana, come Siena, come Pistoia, e anche un reparto che viene dalle Marche, in particolare da Fano, Pesaro e Senigallia, possono contare di 1700 cavalieri. È una forza ingente, un guerriero a cavallo potrebbe essere paragonato anche all'armato di oggi. Anche la spesa per armare un cavalier era notevolissima, quindi un reparto dei 1700 cavalieri non avrebbe niente da invidiare a una formazione dell'esercito imperiale. Invece gli aretini hanno forze nettamente inferiori, possono contare su 800 cavalieri e circa 8.000 fanti. Dalla parte fiorentina ci sono 10.000 fanti. In quell'epoca a cavallo appunto combattevano i nobili, invece a piedi erano i membri, era il popolo, insomma la piccola borghesia, il ceto sociale più basso. In queste occasioni spesso si nominavano dei giovani, gli si nominava cavalieri perché potessero poi dare il meglio nella battaglia. Venivano schierati in prima linea anche perché il loro entusiasmo servisse per iniziare nel modo migliore lo scontro e anche perché, essendo inesperti, in questo modo non sarebbero stati terrorizzati dallo scenario terribile che poi si sarebbe aperto di sangue, di devastazione e di urla. Bene, tra questi feditori a cavallo di prima linea dell'esercito fiorentino c'era Dante Alighieri. Dante al tempo ha 24 anni, in maniera per noi insomma del tutto strana, è già un poeta molto raffinato che compone dei bellissimi sonetti e che fa parte della cerchia degli stinovisti insieme al suo amico Guido Cavalcanti. Quella mattina però è lì, pronto a combattere, anche perché la battaglia rimescolerà tutti i destini. Queste città, che bisogna ricordare, erano al centro d'Europa per la loro potenza economica e militare, vedevano nella battaglia l'occasione di crearsi un futuro migliore, un salto di classe. Questi giovani appena nominati cavalieri sapevano che in caso di vittoria per loro si sarebbe aperta una vita di prestigio, di onori e di potere. Era un'occasione unica, però chiaramente la battaglia poteva anche annientare nella morte o nel disonore chi non riuscisse a cavarselo o chi non fosse riuscito a reggere il panico e il terrore che inevitabilmente a un certo punto si sarebbe scatenato. Gli arettini sanno di essere in forze minore, di avere una netta inferiorità numerica, però orgogliosamente, essendo loro specialmente i cavalieri membri di una aristocrazia di più vecchia data rispetto ai fiorentini che tra le loro file hanno molti ricchi borghesi, cioè fresca nobiltà, bene, gli arettini fieri di questa loro più antica tradizione disprezzano i fiorentini, ci dicono le cronache del tempo, ritengono che i fiorentini in fondo siano degli affeminati che passano il tempo a ungersi e a pettinarsi i capelli e quindi senza timore scatenano un attacco violentissimo. Tra le due città si era accumulato un odio ormai di lunghissima data. Quindi l'impatto è terribile. Tutto il fronte della cavalleria retina si scaglia con potenza contro i feditori dell'esercito fiorentino. Ai lati ci sono le truppe di fanteria con le lance lunghe, con le balestre. Raccontano i cronisti come Dino Compagni che il cielo era quasi oscurato dalla nuvola di dardi, di proiettili che venivano lanciati dagli schieramenti di fanteria. In questo impatto la prima fila dell'esercito fiorentino si ritira, insomma rincula pesantemente e subisce molte perdite anche nelle retrovie. Però il fronte non si sfalda, la fuga non si scatena, i ranghi vengono mantenuti e piano piano, anche con l'appoggio della fanteria di lato, parte il contrattacco. In questo caos, racconta Dino Compagni, questo ci serve a capire la situazione in cui si trovava anche Dante, in questo caos i fanti aretini strisciavano a carponi per terra, strisciavano sotto le pancia dei cavalli e dal basso li colpivano con i loro pugnali cercando di abbatterli. Si può immaginare la situazione. Urla, sangue, polvere, grida e morte ovunque. Dante se ne ricorderà bene quando scriverà appunto il canto quinto del Purgatorio. Il colpo finale all'esercito aretino è dato dalle truppe di Corso Donati che era attestato un po' più in alto e che a un certo punto, tra l'altro disubbedendo agli ordini, attacca sul lato l'esercito aretino e lo porta alla sconfitta. Nel caos che sopravviene con la fuga dagli aretini, l'inseguimento e il massacro da parte delle truppe fiorentine, cadono circa, si pensa, 1600 ghibellini. Altri 2000 vengono fatti prigionieri. Dante appunto si ricorderà bene di questo episodio. Questo episodio rimane profondamente inciso nella sua mente. Infatti quando anni dopo, probabilmente intorno al 1310-1312, scriverà il canto quinto del Purgatorio, racconterà di aver incontrato alle pendici del monte del Purgatorio, nella zona precisamente dell'antipurgatorio, tra i morti di morte violenta e pentitesi all'ultimo istante, due cavalieri che erano quel giorno con lui, quella mattina di giugno del 1289, nella battaglia di Campaldino, cioè Jacopo del Cassero e Bonconte da Montefeltro. Jacopo aveva 29 anni. Bonconte, nato nel 1255 circa, ne aveva 24. Due giovani cavalieri con cui sicuramente lui aveva avuto contatti o che conosceva di fama come Bonconte da Montefeltro. Jacopo era una celebrità in Italia. La sua famiglia era nota in tutta Italia perché il nonno, il nonno Martino, Martino del Cassero, era stato un grandissimo giurista. Aveva insegnato in centri di studio università prestigiose come Modena, Milano, Bologna, forse addirittura a Napoli. Era stato podestà di Genova. Bisogna ricordare che in questa Italia comunale del basso medioevo, che è un'Italia che gestisce, come dicevo prima, un potere economico, politico, incredibile, che ha una rete commerciale che arriva fino alla Cina ormai. In questa Italia della fine del 1200, spesso nelle città sorgevano delle fazioni, delle lotte intestine molto dure. Quando la lotta interna, come quella per esempio che a Fano divideva i del Cassero, che rappresentavano una novità cittadina, dai da Carignano, che rappresentavano invece l'aristocrazia di origine feudale del contato, ebbene, quando allo scontro tra le fazioni arrivava un parossismo, ci rischiava di mettere a repentaglio le sorti stesse della città, allora di comune accordo si chiamava un uomo politico, un esperto di leggi ed armi da un'altra città che riportasse l'ordine e che con una certa obiettività ricomponesse le cose. Ebbene, la famiglia del Cassero aveva fornito prestigiosi podestà in quegli anni, fino appunto dal nonno Martino, che era stato podestà di Genova. Lo stesso Jacopo aveva ricoperto questa carica di podestà a Rimini nel 1294 e a Bologna nel 1296 per sei mesi. Questo periodo di Bologna è importantissimo per le sorti di Jacopo perché la funzione principale di Jacopo che oltre a essere podestà era anche capitano d'armi, guidava l'esercito bolognese, era quella di contenere le mire espansionistiche di Alzo VIII d'Este, signore di Ferrara che già aveva il suo dominio su Modena e su Reggio e che intendeva impossessarsi a tutti i costi di Bologna. Bene, Jacopo con la sua azione diplomatica ma anche con la sua azione militare era riuscito brillantemente a frenare questo tentativo di egemonia di Azzo VIII d'Este. Tra i due era nato un odio ferocissimo, un odio personale, anche perché ci dice uno scriba riminese che ha appuntato alcune note a lato di un codice della Divina Commedia del 1400, bene, anche perché sembra che Jacopo andasse diffamando il suo nemico a più riprese dicendo che lui era giaciuto con la matrigna oppure dicendo che la sua casata non era affatto nobile perché discendeva da una lavandaia. Sta di fatto che Azzo Destre gli aveva giurato la morte e Jacopo sapeva bene che ovunque si spostasse doveva fare attenzione ai sicari degli estensi perché la prima occasione lo avrebbero fatto fuori. Forse anche per questo e per la scarsità delle risorse che il comune di Bologna poteva mettere a disposizione alla fine di questo primo mandato di sei mesi Jacopo rifiutò le richieste insistenti dei bolognesi perché rimanesse un altro periodo a guidare la città e tornò a Fano all'inizio del 97. Per inquadrare bene questa scena dobbiamo cercare di capire cos'era Fano allora. Non era una piccola città. Lo storico Roberto Bernacchia sulla base di documenti d'archivio ha stimato che Fano doveva avere una popolazione che andava dai 15.000 ai 18.000 abitanti il che non è poco era considerata una grande città perché in quell'epoca la città superiore ai 10.000 abitanti era una grande città. Si considera che Firenze che è l'epicentro economico artistico culturale d'Europa si avvia alla fine del 1300 verso i 100.000 abitanti. Fano era sicuramente la città più importante della marca nord dopo Ancona. Aveva una rete commerciale che si estendeva dalla Dalmazia fino alla Sicilia era da tempo ormai alleata di Venezia quindi una città che stava fiorendo in forte espansione proprio in quel tempo le autorità del comune avevano autorizzato la lottizzazione dei borghi che si erano creati verso sud al di fuori delle mura romane. Quindi è una città che ha un vigore insomma economico e sociale notevole e Jacopo stava diventando una star dell'Italia di allora potremmo dire usando un termine di oggi. Infatti all'inizio del 1298 Matteo Visconti da Milano gli inviò la richiesta di ricoprire la carica di potestà nella città di Milano. Jacopo accettò questo invito ma ben sapendo che i sicari lo subivano ovunque decise di non fare la strada di terra che lo avrebbe portato a passare attraverso il territorio degli estensi ma invece di prendere la via del mare costeggiare la costa arrivare fino alla zona del delta del Po e da lì risalire il fiume Brenta per arrivare da quella direzione a Milano solo che pochi chilometri dalla focce del Brenta nella località di Oriago fu sopraggiunto dai sicari di Azzo ottavo d'este e lì massacrato. Questa è la fine che fece Jacopo nel Cassero siamo nei primi mesi probabilmente del 1298 Dante conosce bene questa vicenda e quindi riporta nella Divina Commedia diverse circostanze dettagliate. Siamo nella chiesa di San Domenico una chiesa costruita nel XIII secolo iniziata probabilmente nel 1216 e terminata con ogni probabilità già nel 1298 questo lo si può pensare perché questa lapide fa riferimento alla sepoltura del corpo di Jacopo del Cassero che proprio nel 1298 fu ucciso nel territorio padovano dai sicari di Azzo ottavo d'este e si trova immediatamente alla sinistra dell'entrata è una lapide di non facilissima lettura scritta in gotico bolognese ma evidentemente il lapicida che ha steso il testo non doveva essere uno dei più esperti perché mescola alfabeti diversi la stessa lettera a volte scritta in carattere unciale a volte invece in carattere capitale oltre a questo il latino che usa perché all'epoca le lapide dovevano per forza essere scritte in latino il latino che usa è spesso contaminato e corrotto dalla parlata popolare in più si aggiunge il fatto che usa spesso delle abbreviazioni tachigrafiche che rendono piuttosto difficile la trascrizione la comprensione del testo l'epigrafe è stata per la prima volta trascritta correttamente tradotta da un profondo studio anche metrico di Anna Falcioni presidente del centro internazionale di studi malattestiani di Fano chi ha steso il testo invece doveva essere una persona piuttosto colta lo si capisce da certi riferimenti mitologici e anche dall'uso di certi grecismi ad esempio la Madonna la madre di Gesù Cristo è definita Theotokos con un nome di origine greca la metrica è piuttosto complessa si tratta di esametri leonini con un sistema abbastanza raffinato di rime interne che si sovrappongono anche alla partitura metrica basata sulla durata delle sillabe è una lapide che ha una notevole bellezza perché si sente ancora vivo il dolore e il dolore per la morte di questo che doveva essere l'orgoglio di Fano della Fano di allora Jacopo del Cassero orgoglio si genera dolore e genera anche rabbia perché c'è la consapevolezza evidentemente c'era la consapevolezza nella Fano di allora che Jacopo era caduto per causa di un tradimento gli storici di oggi pensano che a capo di questa trappola in cui Jacopo da Fano cadde ci fossero i signori di Rimini in particolare Malatestino Malatesta che avrebbe ceduto avrebbe in qualche modo consegnato rivelato il piano di Jacopo di recarsi a Milano e via mare quindi risalendo il Brenta al signore di Este azzottavo che era il suo nemico giurato due volte nella lapide ricorre il termine cani la è finita dice la lapide è finita ogni giustizia nel mondo se non viene vendicato il tradimento dei cani in due volte ricorre questa espressione piena di rabbia si invita si invita Bologna si invita Milano a insorgere per portare la giusta vendetta è piena di rabbia e anche di dolore Jacopo viene definito con parole bellissime come si può vedere qui alla quarta riga è definito Flos Decus et Soles Patria Ros Atque Sereno cioè è definito sole della patria bellissimo fiore rugiada e bel tempo una cosa che colpisce molto e su cui vale la pena di riflettere è la coincidenza che questa lapide ha con il testo di Dante infatti a un certo punto vediamo che l'apicida ha trascritto un'esclamazione un'esclamazione di profondo rammarico come una deprecatio sortis cioè una lamentazione verso la sfortuna che ha colpito Jacopo infatti dice eolos eolos o utinam per flaset carbas aretro ah se il vento avesse spinto indietro le vele bectus pata viam caderet non limite tetro spinto verso padova non sarebbe caduto oltre il limite tenebroso della morte è particolare questa esclamazione perché quando Dante scrive il canto quinto del purgatorio inserisce qualcosa di simile a un certo punto Jacopo dice mentre racconta la sua vicenda Dante Jacopo dice ma se io fosse fuggito in Verlamira che è una località che si trovava a sud di Oriago il luogo in cui fu sorpreso dai sicari di Azzo Ottavo d'Este ucciso ma se io fossi fuggito in Verlamira quando fui sovraggiunto a Oriago quando fui sorpreso raggiunto dai sicari a Oriago ancora sarei là dove si ispira questa coincidenza è molto particolare è molto particolare perché si aggiunge a questo il fatto che Jacopo è l'unico personaggio non solo del purgatorio ma di tutta la divina commedia che esce in una simile esclamazione contro la sfortuna che lo ha colpito cioè qui non si tratta di una come dire di un appentimento della percezione consapevolezza di una colpa morale commessa ma si tratta proprio di una lamentazione verso il combinarsi fortuito del caso che ha giocato un tiro mortale e ha distrutto tutte le sue aspettative speranze Dante non scrive mai niente a caso se introduce una frase una caratteristica è perché profondamente vuole creare dei collegamenti un altro elemento interessante di questa di questo rapporto tra la lapide di San Domenico e il testo del canto quinto del purgatorio è l'allusione al tradimento nella lapide è veramente molto esplicita esplicita con il ritornare di questo termine cani con il chiamare alla vendetta chiedere che Bologna e Milano insorgano affermando che la giustizia non è più nel mondo se la morte di Jacopo non viene vendicata bene Dante quando fa parlare Jacopo gli fa dire che il suo assassino i profondi fori onde uscì il sangue in cui sedea quindi le ferite che mi hanno portato la morte dice Jacopo mi furono fatte in grembo agli antenori cioè nel territorio padovano e aggiunge là dove più sicuro io esser credea il fatto di chiamare Padova la città degli antenori è molto significativo Dante non aveva una grandissima simpatia per la città di Padova questo si vede anche da altri da altri punti e il fatto di chiamarla la città degli antenori è un chiarissimo riferimento a una leggenda molto diffusa nel medioevo che vedeva in antenore il prototipo per eccellenza dei traditori infatti antenore nel mito era un principe troiano era il principe troiano che aveva aperto il cavallo di Troia in cui erano nascosti gli acchei permettendo così la devastazione e la distruzione della città quindi il peggior traditore che la storia potesse ricordare e quindi è abbastanza evidente che Dante con questa affermazione vuole alludere al fatto che Jacopo era stato ucciso a causa di un tradimento insomma queste coincidenze questo doppio filo che unisce la lapide di San Domenico al testo del canto quinto del Purgatorio ci può spingere a fare delle ipotesi certamente sono ipotesi di studio che necessitano di un approfondimento e di una verifica sui documenti di archivio sui reperti archeologici o su altri testi letterari però l'ipotesi è che Dante abbia visto questa lapide prima di comporre il Purgatorio il canto quinto del Purgatorio che quindi sia capitato a Fano tra il 1302 data di inizio del suo esilio e il 1312 data presunta di termine della composizione del Purgatorio quindi che sia venuto a Fano e che abbia sia stato colpito sia stato ispirato da questa lapide e dal suo vigore di sentimenti di rabbia di dolore e anche dalla sua natura poetica in certe espressioni del resto non sarebbe strano che Dante fosse legato alla famiglia del Cassero e in particolare a Jacopo perché non sarebbe strano che a Campaldino prima della battaglia lui poeta giovane poeta così colto e così avido di conoscenza avesse cercato l'amicizia di Jacopo sapendolo il rampollo il discendente di una illustre famiglia di notabili e di giuristi quindi non è proprio impossibile che tra Dante e Jacopo fosse nata un'amicizia e che Dante fosse per questo quindi ancora più colpito da questa iscrizione anche per la coincidenza tra questa deprecazione della sorte questa allusione alla sfortuna e il fatto che Fano era la città della fortuna quindi l'ipotesi è che Dante nella sua ricerca di realismo in questo suo continuo tentativo di caratterizzare i personaggi con l'essenza della loro personalità e anche del loro ambiente della loro tradizione familiare di caratterizzarli attraverso frasi fulmini attraverso una sintesi a volta lapidaria ma densissima di significati non è strano non sarebbe strano che Dante avesse voluto caratterizzare Jacopo cogliendo lo spunto da questa lapide come il membro di una cittadina che per antichissime tradizioni era legata alla riflessione alla meditazione all'osservazione della fortuna cioè di come il caso il combinarsi casuale degli eventi agisce con forza sulle vicende umane e quindi che abbia voluto fare di lui un rappresentante di questo orizzonte di questo tipo di cultura quindi Eolus questa frase incisa nella lapide di San Domenico costituisce un legame fortissimo con il canto quinto del purgatorio e quindi assieme all'allusione al tradimento ci può far pensare che Dante avesse familiarità con la città di Fano sia per un suo rapporto già datato con Jacopo del Cassero un'amicizia maturata ai tempi di Campaldino sia per il fatto che Fano era comunque una città di un certo rilievo nell'Italia di allora una delle più importanti della costa orientale d'Italia sull'Adriatico del resto anche il numero di volte che Dante menziona fanno nella Divina Commedia è molto significativo Dante parla di Fano in due occasioni una è questa del canto quinto l'altra è il canto ventottesimo dell'inferno dove vengono nominati Guido del Cassero e Angiolello da Carignano quindi di nuovo un membro della famiglia del Cassero e di nuovo due vittime delle ingerenze delle trappole dei piani dei signori di Rimini dei Malatesta certo si potrebbe anche legittimamente obiettare che il testo della lapide sia stato scritto dopo quello della Divina Commedia certamente chi ha esteso il testo era una persona di una certa cultura quindi l'ipotesi potrebbe essere in realtà che la lapide è stata il testo della lapide è stato scritto 14 anni dopo la morte di Jacopo dopo che si era già diffuso il testo del Purgatorio quindi non prima del 1312 ma il tono della lapide questa menzione della sepoltura in questo luogo lui riposa e sempre qui il cuore rimarrà il nostro cuore rimarrà attaccato bene questo tono così passionale questo riferimento così diretto direi che spinge di nuovo verso l'ipotesi che Dante abbia visto questa lapide e ne abbia tratto ispirazione un'altra obiezione che si può mettere in campo è il fatto è il dubbio che Fano fosse conosciuta anche nel Medioevo come città della fortuna lo era stato senz'altro nell'antichità e lo sarà poi in seguito nel Rinascimento non ci sono per ora documenti d'archivio significativi però un elemento molto importante che può far pensare che questa associazione tra Fano e la fortuna fosse rimasta viva che quindi fosse ben chiara nella mente di Dante ci è offerta dalla tavola poitingeriana è un documento eccezionale oggi conservato in un museo di Vienna ed è una copia mediovale datata tra il XII e il XIII secolo quindi prima dei fatti della stesura della Divina Commedia è una copia mediovale di un originale romano che probabilmente aveva avuto una redazione molto lunga dall'età augustea forse anche prima fino all'epoca di Costantino grande è una mappa che riproduce i territori dell'impero da est a ovest con grande dettaglio con l'indicazione delle vie principali delle città dei fari dei templi dei porti dalle coste della Spagna della Britannia fino all'India tutto con una precisione numerica che veramente stupefacente ci dà un'idea dell'organizzazione dello Stato romano bene se si percorre questa tabula poitingeriana e si arriva alla zona dell'Italia dell'Adriatico vediamo che Fano è chiaramente indicata con il nome di Fano Fortune quindi visto che al tempo lo sviluppo dei commerci sicuramente portava attenzione a mappe a documenti che facilitassero le spedizioni possiamo pensare che questa questa tavola questo documento rafforzi l'idea che anche nel Medioevo anche nell'epoca di Dante l'associazione tra Fano e la Fortuna fosse fortissima e che quindi non è incredibile pensare che Dante volutamente abbia messo in bocca Jacopo del Cassero come unico personaggio di tutta la Divina Commedia questa lamentazione questa riflessione amara sulle sorti bizzarre del caso che in questa occasione hanno portato alla sua morte bene l'altro personaggio del canto quinto del purgatorio di questo capolavoro che è il canto quinto del purgatorio è appunto Bonconte da Moltefelt come dicevo prima nato intorno al 1255 e quindi la sua presenza ci fa capire che il canto quinto del purgatorio ha un legame molto forte con quella che oggi è la provincia di Pesano e Urbino proprio come un legame forte lo hanno il canto ventisettesimo e ventottesimo dell'inferno del ventottesimo ho parlato poco fa ecco nel ventisettesimo Dante aveva messo in scena il padre di Bonconte Guido da Montefeltro e vedremo che tra le sorgi del padre e del figlio Dante stabilisce un rapporto molto interessante comunque Bonconte nell'epoca di Campaldino imperversava in Toscana combattendo nelle file dell'esercito Ghibellino guidava scorrerie razzie e rappresaglie contro il territorio dei Fiorentini del resto Bonconte discendeva da una stirpe di gloriosi guerrieri come tutti i Montefeltro nei secoli e nel 1288 aveva anche condotto un'azione militare molto importante il massacro delle tuppe sienesi alle pieve al topo che era stato un colpo durissimo inferto ai guelfi di Toscana il giorno della battaglia di Campaldino nelle parole di Benvenuto da Imola che ci ha lasciato una descrizione di quei frangenti ecco nelle parole di Benvenuto Bonconte appare come un soldato valoroso e molto lucido è uno dei tre generali che guidano l'esercito Ghibellino bene lui fatto una rapida rassegna si rende conto che si va verso la sconfitta le truppe fiorentine sono troppo preponderanti e quindi lo comunica il vescovo Guglielmino di Dubertini che secondo lui non è il caso di combattere il vescovo racconta benvenuto da Imola gli risponde con disprezzo dicendo che lui evidentemente parlava di viltà e dicendo di non riconoscere lui un membro della nobile casata dei Montefetro allora si dice che Bonconte rispose dicendo se voi oggi vi spingerete fin dove arriverò io sicuramente non tornerete più bene in quel giorno in realtà nessuno dei due tornò indietro e sembra che Bonconte combattè con grande valore quando Dante lo incontra nel purgatorio Dante come spesso accade è curioso di sapere la sorte della persona che incontra e quindi Bonconte ha appena detto poche frasi e subito Dante gli chiede ma dimmi perché il tuo corpo non è stato trovato dopo la battaglia infatti Bonconte probabilmente era caduto nelle fasi conclusive dello scontro quando le truppe a retina in fuga erano state massacrate dalla cavalleria fiorentina dai fanti e anche dai contadini che si trovavano in quel territorio in questo caos generale il corpo di Bonconte non era stato più trovato e questo aveva dato adito a leggende a narrazioni già da allora Dante evidentemente è sensibile a questo tema e quindi non appena può gli chiede ma qual è stato il motivo cosa ti è successo perché il tuo corpo non è stato più trovato e Bonconte spiega e chiarisce il mistero racconta di essere arrivato profondamente ferito forato nella gola l'espressione è fortissima poteva Dante usare anche l'espressione ferito nella gola usa invece forato nella gola arriva con questa ferita profondissima insanguinando la terra intorno a lui strisciando è stato ormai disarcionato arriva alle sponde del torrente archiano che attraversa la pianura in quel punto proprio nel punto in cui l'archiano confluisce nell'Arno e lì in questo luogo altamente simbolico perché per il Medioevo la foce di un fiume o la confluenza di un fiume in un altro rappresenta una verità sovrastante una verità superiore cioè svela il mistero del confluire dell'anima individuale dell'infinità dell'universo e di Dio è il luogo simbolicamente più adatto per il trapasso il passaggio a un'altra alla dimensione spirituale ebbene Bonconte racconta di essere arrivato al punto in cui l'archiano sbocca nell'Arno e lì di essere spirato però con l'ultima risorsa l'ultimo bricelo di energia mentalmente sembra che questo voglia dire Dante neanche a parole ma proprio con una voce mentale all'ultimo istante abbia invocato il nome della Vergine Maria e questo frammento di secondo di pieno pentimento evidentemente gli ha permesso insomma di essere salvo di avviarsi al cammino verso la vita eterna quindi non è strano non è strano che di fronte a questo l'angelo dell'inferno si infuri e inizia a urlare protesti contro l'angelo del cielo che subito dopo la morte di Bonconte scende per prendere la sua anima l'angelo dell'inferno il demonio è pieno di rabbia come per una lacrimetta per una lacrimuccia tu ti porti via la parte eterna di questo beh allora promette che farà vendetta sul corpo di Bonconte secondo la teologia del Medioevo i diavoli avevano il potere di scatenare tempeste era proprio la loro natura che gli lo permetteva e quindi il diavolo di Campaldino usa i suoi poteri raduna le nuvole muove i vapori le fa incontrare con le correnti fredde dell'alta quota e scatena un diluvio questo diluvio riempie di acqua i torrenti che esondano l'acqua confluisce con violenza nei canali nei torrenti più grandi e precipita verso l'Arno che è il fiume reale che occupa il centro della pianura bene proprio nel punto dove l'archiano ormai diventato potente tumultuoso sbocca nell'Arno ecco lì il corpo di Bonconte ormai freddo racconta Bonconte stesso fu travolto dalle acque e dai detriti trascinato nel fondo dell'Arno e ricoperto di pietre e di ghiaia per questo insomma il suo corpo non si trovò più la Divina Commedia è un'opera incredibile è stata apprezzata e amata in tutto il mondo perché continuamente rivela nuove dimensioni piani anche segreti di significato quello che è certo che spesso nella costruzione di Dante un episodio trae ulteriore significato trae una profondità ulteriore proprio dal rapporto con un episodio precedento con uno insomma che poi seguirà questo è sicuramente il caso della contesa tra il diavolo e l'angelo che abbiamo visto nell'episodio di Bonconte infatti è chiarissimamente un rimando a ciò che Dante aveva narrato nel canto ventisettesimo dell'inferno quando nella bolgia dei consiglieri fraudolenti aveva incontrato il padre di Bonconte cioè Guido Guido da Montefeltro Guido è un personaggio storicamente importante era un abilissimo stratega i fiorentini lo temevano e lo chiamavano la volpe lui aveva combattuto per le forze ghibelline riuscendo a ottenere delle vittorie clamorose come il massacro delle truppe francesi di Forlì nel 1292 bene la storia ci dice che il padre di Bonconte Guido a un certo punto si era fatto francescano però poi era stato indotto aveva ceduto alle offerte di Papa Bonifacio VIII perché gli fornisse grazie alla sua astuzia un consiglio per poter mettere in scacco e distruggere i suoi nemici i colonnesi e Guido aveva ceduto a questa offerta perché evidentemente questo vuol dire Dante nel rapporto mettendo in collisione i due racconti le due contese tra diavolo e angelo proprio perché evidentemente il pentimento di Guido non era stato sincero era un puro calcolo egoistico mentre invece quello di Bonconte anche se avvenuto nell'ultima frazione di secondo della vita con l'ultimo bricciolo di energie era un pentimento totale e sincero quindi il povero Guido assiste a questa contesa nel suo caso tra San Francesco in persona e il demonio ma il demonio ha gioco facile perché dice sardonicamente non ci si può pentire e peccare allo stesso momento quello che è male è male e solo Dio sa chi può essere salvato l'episodio di Bonconte è uno dei capolavori come tutto il canto quinto del purgatorio è uno dei capolavori della divina commedia lo scenario che Dante apre alle spalle di Bonconte quando lui inizia a raccontare la sua vicenda di Campaldino è uno scenario grandioso mentre Bonconte appare strisciando ferito profondamente alla gola Dante ci fa percepire in lontananza l'eco del caos e della ferocia della battaglia e ci fa intravedere la vastità del Casentino con la catena di Pratomagno a oveste e quella dell'Alpe di Serra a est fra queste due cime tra le loro profondità boscose si estende questa grande pianura e soprattutto domina dall'alto l'eremo di Camaldoli e questo eremo e quindi la realtà la ricerca dei frati camaldolesi viene nominata fugacemente da Bonconte però è chiaro che queste parole messe in bocca a lui questo valoroso e feroce guerriero questa parola questo riferimento all'eremo di Camaldoli spande una luce spirituale su tutta su tutti gli istanti su questi momenti finali della vita di Bonconte e su tutta potremmo dire la miseria della battaglia e lo spettacolo dello scempio inutile del dolore e del sangue sparso senza motivo del resto è proprio dall'ermo dalla montagna sopra l'eremo di Camaldoli che scende l'archiano cioè l'archiano che come si è detto è il fiume mistico della sorte di Bonconte da Montefeltro nel resto questa tecnica di usare lo scenario perché Dante è consapevole di tutti i livelli della comunicazione è di una modernità potremmo dire incredibile questa consapevolezza nell'usare lo scenario che viene aperto alle spalle delle vicende di un personaggio è una cosa che Dante è una tecnica che Dante usa più riprese per esempio nel canto di Ulisse è un modo in qualche modo di celebrare l'epicità l'eroismo del personaggio bene il canto quinto quindi è un gioiello è costruito con una attentissima modulazione dei toni come anche questo possiamo dire come spesso fa Dante la grandezza di Dante è proprio la grandezza del poeta cioè del poeta che sa usare le parole sa nominare le cose ma anche dell'artista che tramite l'uso di suoni l'uso di immagini la poesia di Dante è vivissima di immagini potremmo dire teatrali bene in lui c'è la consapevolezza che attraverso l'uso di suoni e di immagini qualcosa suscita nella mente di chi lo ascolta ed è ben consapevole di tutto ciò che questo insieme può provocare nello stato d'animo di chi legge i suoi versi così il canto quinto se lo si osserva bene è modulato con grandissima attenzione la prima parte potremmo inquadrare prima di tutto due metà la prima parte è dedicata a due schiere di penitenti che quando si accorgono che Dante è ancora vivo si affollano intorno a lui perché il loro desiderio più forte è di sollecitare di chiedere preghiere per loro perché la preghiera dei propri parenti amici può accorciare il tempo da trascorrere nel purgatorio queste anime sono assetate di Dio di Paradiso quindi cercano subito di chiedere a Dante di ricordarli nel mondo terreno è una scena in realtà un po' goffa insomma sembra un quadretto di vita di una città del Medioevo con il popolo al mercato quindi una situazione di pace se vogliamo di serenità però insomma con una certa scompostezza e agitazione insomma i penitenti si muovono con fretta la fretta insomma per Dante non è una caratteristica molto nobile perché toglie dignità bene a un certo punto però finita questa prima parte nelle ultime parole di Dante prima che Jacopo parli il tono inizia a innalzarsi e con questo trittico che segue la seconda parte è composta di un trittico con Jacopo Bonconte e la senese Pia forse della famiglia di Tolomei con questo trittico il tono si impenna si innalza nettamente siamo in una dimensione che è tragica e epica la parte che riguarda Jacopo in realtà è velata da una certa tristezza e potremmo dire elegiaca Jacopo in fondo è una figura anche tenera si sente un particolare affetto sembra di sentire un particolare affetto da parte di Dante c'è una certa nostalgia rimpianto c'è questa diciamo triste considerazione della mala sorte della sfortuna invece lui in fondo era anche Dante lo sa bene perché Dante è sempre molto attento a cercare il realismo nelle sue parole a ritrarre la persona proprio nella sua essenza principale nella sua storia personale della famiglia della sua cultura quindi Jacopo Dante lo sa bene è il discendente di una nobile famiglia di giuriconsulti di intellettuali invece Bonconte è chiaramente più un guerriero nella visione di Dante appartiene a una stirpe di guerrieri di montagna infatti il suo tono è potremmo dire più asciutto lui narra con un distacco maggiore forse la sua vicenda e il gioco che fa Dante è appunto di spalancare dietro il suo racconto questo scenario di natura potente di boschi di montagne la pianura del Casentino e su tutto questo la tempesta terribile con le altissime e tenebrose nubi che scatena il demonio lo scenario è gigantesco raggiunge potremmo dire per certi livelli il sublime bene questo blocco questo dittico composto dei due guerrieri va poi a diciamo scontrarsi a impattare ma armonizzandosi con quella che è l'ultima sequenza del canto cioè la parte dedicata a Pia a Pia dei Ptolomei la senese Pia in realtà sono ben minori i versi dedicati a lei il suo racconto è fugace è rapido ma Pia si presenta subito come una figura piena di tenerezza e di dolcezza femminile tutti i tre i personaggi quando iniziano a parlare a Dante usano delle espressioni di cortesia questo rivela la loro nobiltà sia formale che che d'animo ma la formula che usa Pia è ancora più significativa lei si rivolge a Dante e la prima sua preoccupazione è quella che Dante si riposi quando ritornerà nel mondo prima ripositi ti prego per questo lungo viaggio poi gli chiede ecco quando ti sarai riposato allora ricordati di me non menziona neanche le preghiere estremamente discrita e poi si presenta si presenta in pochi versi c'è un verso che è famosissimo che Siena mi fedis fecemi ma remma una intera vita in un solo verso in undici sillabe cinque parole cinque parole però costruite con un'antitesi tremenda e profondissima questa è il genio la grande capacità di Dante la sua arte insomma nell'usare parole suoni immagini bene Pia racconta con un'allusione anche questa terribile che la sua sorte la conosce bene proprio colui che inanellandola il giorno delle nozze le aveva posto al dito la sua gemma quindi tutto il canto questo canto pieno di grida di urla di sangue di vicende storiche che hanno segnato la vita di Dante che hanno segnato le vicende del 1200 in Italia ebbene questo canto pieno di tutto questo clamore di questa grandiosità va a terminare a spegnersi su una parola emblematica diametralmente opposta se vogliamo c'è la parola gemma Dante fa terminare tutto il canto ecco con questa allusione di Pia al gioiello che il marito poi evidentemente il suo assassino gli aveva donato quindi tutto il canto finisce su questo oggetto su questa immagine che ci parla di tutte altre cose di un universo femminile di giornate serene di desiderio di vita familiare di felicità di bellezza solo che questo gioiello che è l'ultima parola di tutto il canto è chiaramente insomma nella grazia all'arte di Dante velato anche da una tristezza cioè dalla consapevolezza del male che comunque in cui comunque l'umanità vuole persistere bene rendere conto di tutti gli aspetti straordinari della poesia di Dante è praticamente impossibile quindi sicuramente a questo punto non ci resta che ascoltare immergerci nei suoni nei ritmi nelle parole del canto quinto del purgatorio grazie alla lettura di Fabrizio Bartolucci io era già da quell'ombre partito e seguitava l'orme del mio duca quando di retro a me dizzando il dito una gridò vè che non par che Luca all'oraggio da sinistra quel di sotto e come vivo par che si conduca gli occhi rivolsi al suon di questo motto e vidili guardar per maraviglia pur me pur me e il lume che era rotto perché l'animo tuo tanto si impiglia disse il maestro che l'andare allenti che ti fa ciò che qui vi si pispiglia vien dietro a me e lascia dir le genti sta come torre ferma che non crolla giammai la cima per soffiar di venti che sempre l'uomo in cui pensier rampolla sovra pensier da sé dilunga il segno perché la fuga l'un dell'altro in solla che potea io ridir se non io vegno dissilo alquanto del color consperso che fa l'uomo di perdon talvolta degno entanto per la costa di traverso venian genti innanzi a noi un poco cantando miserere avverso avverso quando s'accorse chi non dava loco per lo mio corpo al trapassar di raggi mutarlo or canto in un oh lungo eroco e due di loro in forma di messaggi corse l'incontro a noi e di mandarne di vostra condizione fatene saggi e il mio maestro voi potete andarne e ritrarre a color che vi mandaro che il corpo di costui è vera carne se per veder la sua ombra restaro con mio avviso assai e lor risposto faccianli onore ed esser può lor caro vapori accesi non vidio si tosto di prima notte mai fender sereno né sol calando nuvole d'agosto che color non tornasser suso in meno e giunti là con gli altri a noi dir volta come schiera che scorre senza freno questa gente che preme a noi è molta e venionti a pregar disse il poeta però pur va e in andando ascolta o anima che vai per esser lieta con quelle membra con le quali nascesti venian gridando un poco il passo quieta guarda s'alcun di noi un qua vedesti sì che di lui di là novella porti dè perché vai dè perché non t'arresti noi fummo tutti già per forza morti e peccatori infino all'ultim'ora quivi l'ume del ciel ne fece accorti sì che pentendo e perdonando fora di vita uscimmo a Dio pacificati che del disio di sé veder naccora e io perché nei vostri visi guati non riconosco alcun ma sa voi piace cosa ch'io possa spiriti ben nati voi dite e io farò per quella pace che dietro a piedi di si fatta guida di mondo in mondo cercarmi si face e uno incominciò ciascun si fida del beneficio tuo senza giurarlo pur che il voler non possa non ricida on Dio che solo innanzi agli altri parlo ti priego semmai vedi quel paese che siede tra Romagna e quel di Carlo che tu mi siedi i tuoi prieghi cortese infano sì che ben per me sadori pur chi possa purgar le gravi offese quindi fu io ma li profondi fuori condusci il sangue in sul quale io sedea fatti mi furono in grembo alle antenori là dove io più sicuro esser credea quel da este li fe far che ma vea in ira assai più in là che dritto non volea ma se io fosse fuggito in verla mira quando fu sovraggiunto ad Oriaco ancor sarei di là dove si spira corsi al palude e le cannucce il braco mi impigliarsi chi caddi e lì vidio delle mie vene farsi in terra l'aco poi disse un altro dè se quel disio si compia che ti trage all'alto monte con buona pietà ti aiuta il mio io fui di Montefeltro io son buon conte Giovanna o altri non ha di me cura per chi io votra costor con bassa fronte e io a lui qual forza o qual ventura ti traviosi fuori di campaldino che non si seppe mai tua sepoltura o risposelli a piede il casentino traversa un'acqua a canome l'archiano che sovra l'ermo nasce in appennino l'ave il vocabol suo diventa vano arriva io forato nella gola fuggendo a piede sanguinando il piano quivi perdei la vista e la parola nel nome di Maria finì e quivi caddi e rimase la mia carne sola io dirò vero e tu ridì tra i vivi l'angel di Dio mi prese e quel d'inferno gridava o tu del ciel perché mi privi tu te ne porti di costù l'eterno per una lagrimetta che mi toglie ma io farò dell'altro altro governo ben sai come nell'are si raccoglie quell'umido batur che in acqua riede tosto che sale dove il freddo il coglie giunse quel mal voler che pulmar chiede con l'antelletto e mosse il fummo e il vento e la virtù che sua natura diede indi la valle come il dì fu spento da prato magno al gran gioco coperse di nebbia e il ciel di sopra fece intento sì che il pregno aree in acqua si converse la pioggia cadde e affossati venne di lei ciò che la terra non sofferse e come i rivi grandi si convenne verlo fiume real tanto veloce si ruinò che nulla la ritenne lo corpo mio gelato in sulla foce trovò l'archian rubesto e quel sospinse nell'arno e sciolse al mio petto la croce chi fedì me quando il dolor mi vinse voltò mi per le ripe per lo fondo poi di sua preda mi coperse e cinse dè quando tu sarai tornato al mondo e riposato della lunga via seguitò il terzo spirito al secondo ricordati di me che son la pia siena mi fe disfece mi maremma salsi colui che n'annellata apria disposando mavea con la sua gemma grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti